indovina chi viene in radio buongiorno buongiorno ad Antonio Romano indovina chi viene in radio l'avete certamente capito ascoltando nella voce non è il gragnanillo ma è consiglia Ricciardi che quest'oggi ci viene a trovare insieme a Peppe Ricciardi ci dovranno parlare di un progetto partorito dalla fervida mente di Peppe è un progetto molto bello che secondo me è opportuno che tutti quanti facciate la giusta attenzione e collaboriate appunto perché questo progetto possa avere una sua degna conclusione cioè che vada in porto alla grande buongiorno a consiglia buongiorno a Peppe sono raffreddatissima lo sai ma la tua voce è bella anche raffreddata a settembre già c'è l'influenza in giro è vero un po' anche di allergie insomma c'è un po' di tutto però cerchiamo di come dire di difenderci al meglio Peppe noi ci vediamo per fortuna di tanto in tanto perché appunto voi non siete artisti che sono fermi siete in continuo fermento però io che vi conosco piuttosto bene diciamo che Peppe che trascina consiglia che più diciamo tranquilla sotto certi aspetti però bene fa perché così ti costringe ecco voglio dire a darci la tua arte canora sempre di più insomma è quando mi presenta un progetto magari o crea lo cerchiamo di creare insieme oppure magari lui ha una grandissima creatività quindi mi propone qualcosa è chiaro che cerchiamo in qualche modo di capire se possibile se fattibile a quel punto poi si insomma si insegue il sogno a prescindere da questo poi diciamo che il consiglio la voce di consiglia riesce a dare qualcosa in più alle canzoni che scrivo io sarà perché ma io immagino che tu le scrivi sarà perché ti amo eh sarà perché ti amo ma credo che tu nel momento in cui le scriva già immagini che le debba cantare così diciamo che questa è la verità poi se vogliamo sì anche se poi chiaramente uno cambia sempre un po il genere cercando di di andare avanti con i tempi questo nuovo lavoro per esempio questo nuovo cd abbiamo fatto un altro piccolo step poi ve lo racconterà consiglia perché abbiamo affidato la tutta l'operazione diciamo di di arrangiamenti eccetera eccetera al figlio di consiglia adriano c'è il quale un grosso personaggio del del pop napoletano insomma è conosciutissimo quindi questa è una bella contaminazione io so appunto dell'attività del figlio di consiglia quindi immagino che ci sia ecco questa buona contaminazione nel senso che voglio dire e questo viene anche perché consiglia un artista ecco sempre aperta diciamo all'innovazione perché se è vero come è vero che come interpreta lei i classici napoletani sono ben pochi a poterlo fare altrettanto vero che lei nell'arco della sua carriera si è sempre aperto d'altra parte diciamo la verità chi conosce bene sa che tu sei partita proprio prima con la musica sperimentale poi si è arrivata al classico se vogliamo no sì sì più o meno sì è così in effetti la musica popolare insomma poi si è arrivata al classico infatti quando nel 1973 se non erro incominciamo a fare un progetto di musica folk diciamo di musica popolare con contaminazioni appunto usando strumenti che a quel tempo li usavano soltanto i grossi gruppi come emerson leck and palmer eccetera quindi insomma voglio dire abbiamo sempre cercato in qualche modo di fare qualcosa di diverso io credo che insomma negli anni è chiaro che si migliora sempre di più però si cerca in qualche modo di dare qualcosa al pubblico perché tu non ti puoi fossilizzare con nuove esperienze una maturazione diversa nei dischi magari tu incidi un disco e ti rendi conto che magari la voce deve essere usata in un altro modo invece di come magari l'hai usato dieci anni prima certo io direi a questo punto di entrare nello specifico di questo progetto perché in effetti questo progetto prevede un lato editoriale in effetti la pubblicazione di un libro libro autobiografico che si intitola Davico Paradiso al Paradiso e il ritorno gioco di parole è un po' una storia in 130 pagine legata alla vita di Peppe Ricciardi ma ovviamente poiché la consiglia e la sorella hanno vissuto esperienze musicali insieme è chiaro che all'interno di questa autobiografia trova posto in maniera preponderante consiglia e si percorre tutta la carriera vostra diciamo musicale fino ai nostri giorni diciamo che in effetti si è un libro autobiografico come giustamente dici tu però potrebbe essere la storia di un qualsiasi di una qualsiasi coppia di fratelli che vivono in un centro un quartiere popolare un quartiere diciamo come mater dei che confina con la sanità quindi praticamente due ragazzi che si sono fatti da solo con un po' di fantasia e un po' di di studio si sono fatti da solo quindi potrebbe è piaciuto moltissimo all'editore proprio perché racconta racconta di questi due ragazzi normalissimi comunissimi i quali praticamente frequentando determinate zone determinati ambienti con determinati personaggi tipo Pino Daniele tipo altri amici del quartiere tipo non voglio fare altro Lello Giurivo che suona con adesso con Arbor e Lello che comunque ha fatto delle delle un bellissimo parte nel nel film di Mel Gibson quello quello che frustrava Gesù insomma sì 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 il pretoriano insomma in quel periodo c'erano in questo quartiere probabilmente c'era una positività e c'era un fermento un fermento culturale che stava nascendo e questo ti parlo degli anni settanta però voglio dire e quindi avendo riassunto tutti questi periodi di tutte queste persone nel nel mio libro ho fatto sì che ho fatto come si dice il campanellino la luce accesa in queste persone che sono delle persone splendide alla zona editori il quale a novembre mi mi darà la prossima diciamo che insomma quanto prima parte questo libro e all'interno ci sono appunto personaggi conosciuti a più musicisti diventati famosi ma anche personaggi legati al folklore diciamo di un di un quartiere quindi vi sono citazioni che ci parlano di Aitano Pazzi fortunato e anche della vecchietta consigliere ripianello è una tua e no consigliere ripianello è mia nonna e tua nonna che praticamente era una donna poverissima chiaramente viveva nella quartiere sanità in un basso e questa donna per poter vivere insomma poverina non avendo il marito cercava in qualche modo di aiutarsi facendo le riffe facendo vendendo le castagne cioè insomma stiamo parlando di una napoli antica e romantica che ormai non c'è più e io credo che per alcuni possa essere una cosa bella per poter ritornare nei pensieri di una volta insomma nel ho parlato di una sanità diversa romantica senza autos quando si faceva ancora la festa del munacono spiegato che cos'era chi veniva alla festa del munacono che c'era Pippo Baudo fisso c'è anche una foto eh Peppe che io ho vestita da angioletto e poi il libro è correlato da diverse fotografie foto e certo la festa del munacone insomma era veniva la presenza di gente come Totò insomma di tanti altri grandi artisti mattini andanti che andavano per la maggiore insomma era una festa importante ricordo un aneddoto molto carino il Brutus non so se te tu magari te li ricordi chi ci ascolta magari non se lo ricorda però questo mi ricordo che quando si spogliarono per vertisti perché loro si vestivano avevano degli abbigliamenti loro in una pescheria pensa sotto al ponte della sanità quelli si cambiavano si si cambiavano mi ricordo che vedeva uno che c'aveva i calzini bugati e gli dice tu ah che fine che hanno fatto che si cazzo e allora pensai mamma mia ma allora gli artisti gli artisti si puzzano di fame no ma potersi un calzino forse era il look no no vabbè però comunque venivano soggetti cioè i personaggi molto importanti tipo albano romina power io ricordo che cercava mia mamma la cortesia questa signora della pescheria per potermi far stare là a contatto con gli artisti perché mi sembrava un mondo proprio completamente diverso di favola e quindi io ero proprio veramente molto molto affascinata da questo mondo vabbè tutti oretta berti tutti vabbè anche i nostri più famosi voglio dire abbate bruni bravo 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 sì 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 ma infatti non mancava oddio quelli a livello è proprio nazionale internazionale dunque ragazzi io direi di completare il discorso perché abbiamo parlato del libro voglio ricordarlo da vico paradiso al paradiso del ritorno e all'interno di questo progetto c'è anche un cd una raccolta di 12 brani scelti con una logica che adesso consiglia ci illustra in effetti questo cd che dovrebbe diciamo essere pubblicata a breve più o meno diciamo in concomitanza con il progetto è una scelta dei pezzi particolari uno perché sono pezzi che salvo qualcuno in effetti sono tra la fine degli anni 50 inizio anni 60 poi c'è un omaggio a pino daniele rodanna con c'è e vi sono due inediti di peppe ricciardi ma sostanzialmente ecco questa è una novità perché consiglia non si è mai cimentato in pezzi diciamo relativamente recenti perché la sua attività di cantante di classici napoletani si è fermata sempre diciamo al 1930 insomma al periodo anche bellico d'oro della canzone napoletana perfetto e allora parliamo di questo cd che in effetti come abbiamo detto vede la presenza diretta in maniera abbastanza importante di tuo figlio in effetti tu lo stai realizzando vogliamo dare i titoli e diciamo anche i motivi per cui sono stati scelti il cd si intitola non solo mio figlio ma anche gianni blob insieme a lui che stanno insieme facendo arrangiamenti anche masterizzazioni eccetera bene il cd si malinconico autunno sì malinconico autunno perché comunque diciamo prima i titoli dei brani i titoli allora andiamo in ordine malinconico autunno sarà chissà amore amaro questo sarà cantato sarà chissà sarà cantato con fausto ciliano e questo è un bel contributo è una bella bellissimo infatti io sono grata al maestro perché effettivamente è un onore cantare con lui che già lui è stato presente con il disco secco e andiamo avanti segretamente donna con c'è indifferentemente un altro classico del 63 sono alcuni brani molto molto noti tu sei una cosa grande poi degli ineti di consigliere dei pianelle che sarebbe mia nonna che è un inedito di peppe omaggio a brunina bruna in effetti a mario bene anche la stessa cosa e poi passo tempo ancora inedito di peppe ricciardi io direi di dire perché la scelta di questi brani la scelta di questi brani perché durante il nostro percorso di vita dal 1957 ad oggi oddio non proprio oggi diciamo così abbiamo questi brani ci hanno segnato la vita c'è il percorso della nostra vita oddio nel 1957 qual è stato il brano che allora che tu sei nato saprete anche le nostre date di nascita diciamo che è tutto un percorso infatti se vedrà se vedi più o meno la data della nascita di questi brani corrispondono a delle date specifiche all'interno del disco all'interno del libro dove io racconto per esempio donna con c'è non è non è un fatto a casa chi era donna con c'è donna con c'è un personaggio storico a guardaporto magari coppa coppa madre che 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 era nostra custode che poi non era manco stato quindi praticamente ho raccontato questi personaggi attraverso attraverso proprio un filone conduttore che appartiene al libro perciò il libro è profondamente legato al disco abbiamo abbiamo la mia nascita malinconico autunno la nascita di consiglia sarà chissà scritta da roberto murolo e guarda caso poi io ho fatto la collaborazione con roberto eh negli anni ottanta persone che hanno collaborato quindi hanno collaborato pensa un po' che cosa strana che i casi strani è portata alla vittoria del festival proprio da fausto cigliani che che in questo disco canta con consiglia ma tante altre cose per esempio eh alla fine passo tempo è proprio ho voluto proprio scrivere si passa passa questo tempo eh e ci sono persone che eh spesso aspettano un treno che non arriva ad un binario morto mentre a volte è molto più facile salire sul primo treno che passa. Ragazzi ehm a curiosità nostra anche a beneficio degli ascoltatori diciamo io ho avuto modo di conoscerli personalmente tutti e due ma anche eh diciamo di vedere la differenza le sfaccettature caratteriali ma voi siete legati sia a Sergio Bruni che a Roberto Murula però Sergio Bruni era un personaggio abbastanza spigoloso nel senso che non avete una bella esperienza nel senso che quando tu eh sei andato da lui e ti ha ascoltato. No io non è che sono andata da lui. Hai letto il libro. Ho letto il libro. No non è che sono andata da lui. Cioè così per caso. Mi dissero eh allora era l'International Star Music che erano eh era un'agenzia di spettacoli di produzione e io sono legatissima ancora a livello morale eh a questi personaggi che purtroppo ci hanno lasciati. Certo. E niente mi disse allora Alfonso eh disse consiglia perché noi prendi un appuntamento con Sergio Bruni e voglio farti sentire qua la non so il motivo perché io. Mh dissi ma ma che fa perché che stiamo facendo a su Sergio Bruni? Onestamente con tutto rispetto del maestro perché poi figuriamoci era un grande personaggio però non capisco il motivo perché ognuno poi quando inizia una carriera la inizia appunto cioè non è che poi gli altri ti possano dare mai una mano. In quel momento a che punto di una carriera. No non ti danno una mano. A quel punto di sé babbo e diamo tanto che te ne va a perdere. Sì la dica tu a quel punto eh come stavi con la tua carriera? Niente non aveva iniziato niente. Poteva essere ammazzata dove sei spiegato. Bravo. Fui ammazzata. Fui ammazzata che io rimasi molto sconvolta perché ci fece entrare questo maestro diciamo in questa casa molto bella eh l'ingresso era veramente ehm come se fosse un palazzo. Un tempio. Un tempio. Comunque una casa bellissima. Dov'è stava? Parco Margherito? Sì parco Margherito. con un fular perché lui amava sempre questi fular che pensava che magari può essere. E comunque in ogni modo no ma non è così perché io vedi se mi mette i fular non mi metto niente cioè è un fatto proprio. Sono tanti i tuoi covichi che lo fanno. Comunque in ogni caso piglia con le mani alzate come se fosse una benedizione. Ci benedì. Ci benedì. E dopodiché poi mi fece cantare Peppe con la chitarra e poi cantai giusto una frase di. Eh se voglio una da studiare ancora. Oddio non è che non uno nasce un barato. Però mi è deciso proprio. Cioè almeno dico eh però che bella che bella voce. Diciamo che l'ho raccontato nel disco. No l'ho raccontato nel libro. No no molto diciamo scherzoso perché non è che qui si vuole. No per l'amor di Dio no no no. Assolutamente lui forse aveva ragione. Io mi rendo conto perché poi eh tu non è che poi all'inizio della tua carriera debba essere veramente bravo. No assolutamente. Io ci aggiungo 30 anni e ancora tuttora ascoltami ancora tuttora mi sono messa in gioco. Mi sono presa una eh specialistica in musica da camera. Cioè voglio dire ancora tuttora io cerco in qualche modo di migliorare. Quindi per me eh la cosa importante è veramente questa eh di aver detto la verità probabilmente aveva detto la verità in quel momento storico. Diciamo che a una ragazzina magari sarebbe stato meglio un modo più dolce. Se io non avessi avuto poi quello che eh ho fatto non no. indubbiamente. Quella quella esperienza lì eh mi fece ci fece optare quando poi ci serviva eh di cantare con un grosso personaggio per Roberto Muro che era molto più accompagnato. E' stata accompagnato. Brava accompagnato. Come ho scritto nel libro. Sì sì è vero. Confermo io mi ricordo che noi facemmo uno spettacolo appunto eh celebrativo di mi pare dei quindici anni di la radio eh lo andai a trovare e disse roberti ti spiace no no vieni ma piglia non ti preoccupa. No Roberto era una persona molto molto squisita. Era molto più altezzoso Sergio quando era così accompagnato Roberto. Roberto. E quindi optammo per 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 la sua presenza in alcuni brani così come lui optò per la presenza di Consiglia in alcuni suoi dischi. Quindi ho raccontato anche tutto questo. Anche tutto questo. Sì 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 sì. Raccontato la rinascita della canzone napoletana perché diciamo che probabilmente Consiglia è stata una delle prime forse la prima in assoluto quando nel nel 73 settantaquattro abbiamo iniziato a 76 c'ho una locandina a casa ancora del 77 che facemmo una cosa in teatro con chitarra e voce canzoni classiche napoletane quindi eh poi da lì eh Caterina Caselli. Parlavo di questo termine inglese crowdfunding crowdfunding. Obiettivamente io ogni tanto penso come si potrebbe tradurre o concepire in napoletano. Eh si potrebbe riassumere in questo modo. Cioè io apprezzo l'artista per cui eh investo praticamente nell'artista appunto perché credo nella sua opera. La traduzione potrebbe essere questa nel senso che ecco il crowdfunding poi Peppe ci dirà tecnicamente come va sviluppato. Però eh ci sono una serie di opzioni che vengono offerte dall'artista in questa eh occasione quindi da Peppe Ricciardi per il libro e da Consiglia per quanto riguarda il libro. E allora vi sono tante possibilità. Il disco. Il disco perdonami. Vi sono tante possibilità ovviamente facendo appunto questo anticipo eh anticipando questa somma a seconda di quelle che sono le opzioni da scegliere e si dà la possibilità all'artista di autoprodursi che è la cosa più importante perché guardate è una cosa fondamentale il fatto che non andando attraverso produzioni, impresari che ti condizionano l'artista riesce a esprimere se stesso e fa le scelte che ritiene più opportune. Quindi rischia in prima persona e ci mette la faccia e quindi a noi tutti sta proprio come dire il compito, io direi l'obbligo tra virgolette di dare una mano appunto per la risoluzione di queste ehm diciamo iniziative editoriali e discografiche. Detto questo non so se sono stato chiaro, ti direi di aggiungere qualcosa. Abbastanza chiaro. Insomma con questa possibilità di questo crowdfunding ognuno che ha un'idea può esporla su questo sito che raccoglie diciamo i fondi da chiaramente ogni artista ogni persona che ha questa idea mette in vendita delle cose che vanno acquistate prima che esce il prodotto è una specie di prenotazione. Esatto. In questo caso chi vuole prenotare il libro o il disco o il libro in più il disco insieme fa questa questa diciamo prenota, anticipa questa somma che poi quando finisce il crowdfunding gli verrà spedito a casa libro e cd o solo cd io sono libero. Insomma questa è l'operazione. Molto semplice tu fai delle offerte durante nel nel sito del in questo caso produzione dal basso fai delle offerte e le persone che vanno su questo sito scelgono l'offerta che hanno deciso di di prendere. È tutto online? È tutto online. È tutto online. È tutto online. È semplicissimo. tanto ma tutti hanno il telefonino. Sì assolutamente. Ormai tutti abbiamo impagato. È semplicissimo. Siamo tecnologici. Ci sono persone che mi hanno chiesto che loro trovano difficoltà a fare la coperta ma non ci vuole nulla perché una volta che tu scrivi aderisci all'offerta automaticamente si aprà una nuova pagina. Vuoi fare il bonifico? Vuoi fare pagamento con carta di credito? Comunque semplicissimo. Dopo ti dai il tuo indirizzo per ricevere il materiale ed è una cosa facilissima. Speriamo che riusciamo a farlo. Comunque in ogni caso anche se non riusciamo a completare la cosa non c'è nessun problema che sia il disco che il libro comunque usciranno magari a nostre spese però se si può cercare di racimolare un minimo giusto per dire alla prossima volta ho anche questo fondo per investire su un altro prodotto. E questa è una cosa importante perché poi tutto sommato si abbattono i costi sotto questo aspetto però c'è una cosa da specificare che credo sia importante perché queste iniziative hanno un inizio e danno una fine c'è un tempo entro il quale bisogna prenotare. Sì in effetti mancano 35 giorni fra 35 giorni si chiuderà chi è dentro e dentro chi è fuori fuori. Dico questo perché? Perché chiaramente il libro lo troverete comunque in tutte le librerie ma il cd è un discorso un po' particolare perché abbiamo deciso di comune accordo che faremo una produzione limitata giusta per il libro e sicuramente sarà difficile trovarlo in giro quindi chi non l'acquista con questo sistema dopo dovrà veramente penare per trovare questa perla questa nuova perla da aggiungere alla collana di perle di consiglia. Ovviamente voi troverete se andrete in effetti su questo sito che vi è stato indicato abbiamo detto produzione dal basso ci saranno le varie opzioni chi per esempio non possiede la discografia completa la può pigliare addirittura con la pendrive viene data a un prezzo molto molto secondo me interessante avere la discografia completa di consiglia liciardi. Ovviamente avete anche altre possibilità potreste io faccio una forzatura potreste anche versare una cifra senza chiedere niente in cambio sicuramente loro saranno così carini. Ci sta questa possibilità. Ma ognuno vuole un qualcosa dell'artista. Ma anche secondo me sono molto carine certe personalizzazioni che mettono in contatto diciamo il fruitore con l'artista. Ma questa è la vendita dei dischi e dei libri e di tutto del futuro cioè adesso non non è più cioè ormai online si fa tutto quindi è inutile che ci rammarichiamo ormai stiamo nel 2017. E poi è vero questa cosa che ha detto lui è molto vera nel precedente crowdfunding che abbiamo fatto è successo però siamo siamo stati poi a cena con delle persone che avevamo conosciuto in quell'occasione siamo adesso ci conosciamo a momenti ci frequentiamo ci scambiamo messaggini cose quindi è vero sì dopo c'hai un contatto più diretto con l'artista. Certo sicuramente cioè accresci quella fidelizzazione che oggi come oggi diventa ripeto l'unica arma per l'artista di sottrarsi a certi meccanismi che ti stridolano certo è la verità perché poi voglio dire quando si fanno queste iniziative io mi sentirei di dire che sono senza fine di lucro nel senso che sono legate esclusivamente alla produzione di una di una cosa artistica quindi io veramente vedo con grande favore questo tipo di iniziativa anche perché poi dopo non non devi sottostare a noi non ci piace sottostare non abbiamo mai fatto questo tipo di siete mai diciamo non siamo mai capito a compromessi non abbiamo mai fatto compromessi però questa questa ancora di più perché decidi tu chi è il tuo arrangiatore cioè la tua indipendenza esattamente decidi tu l'arrangiatore decidi tu i pezzi da mettere nel disco decidi tu tutto esatto non è condizionale quindi io vi esorto devi avere l'indipendenza devi avere un certo periodo della tua vita che è fondamentale quindi esortiamo a partecipare a questa raccolta fondi con un qualcosa in cambio chiaramente da scegliere sul sito della crowdfunding ci sono tante possibilità insomma voglio dire poi la vostra è una disponibilità diciamo estremamente ampia nei confronti di coloro che vi danno fiducia quindi si creerà insomma si sciderà il nome di chi ha contribuito vogliamo dire i prezzi più o meno 20 euro il libro 20 euro il cd 40 euro libro più cd chiaramente e poi ci saranno altre offerte 30 euro la pendrive con tutta la discografia poi c'è 50 euro il libro più la pendrive e la discografia completa va bene insomma ci sono delle cose che poi c'è il cofanetto degli ultimi 4 cd fatti presso la phonotype ovviamente 50 euro compreso il cd male perfetto perfetto quindi diciamo che sta a voi la scelta è talmente ampia la gamma che avete l'imbaraccio beh insomma lo signoro della canzone napoletana non è un termine dato astrettamente a consigliari ciardi ragazzi torniamo al discorso del crowdfunding perché in effetti ci dicevamo prima a microfoni spenti che a volte ecco un cantante tra virgolette che ha fatto molto anche classico ha un pubblico non sempre verde giovanissimo sono persone anziane molto diciamo che hanno difficoltà a utilizzare i mezzi diciamo più moderni sono uno di quelli che per esempio non sa fare un bonifico attraverso diciamo il suo conto corrente bancario però ecco i vecchi tra virgolette gli anziani in generale sono anche molto cocciuti e determinati quindi bisogna dire anche questo che quindi quando l'anziano ha deciso di comprare il libro di peppe ricciardi il disco di consigliore ricompreranno metteranno in croce ai figli ai fratelli ai nipotini ma comunque sicuramente porteranno a termine questo compito sì 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 quindi principalmente ho esorto andare sul sito per verificare per leggere un po' di che si tratta sia del libro che del cd sul sito produzione dal basso ma sul link sulla pagina facebook di consiglia ci stanno tutti i rimandi basta cliccare su quella fotografia stanno tutti i rimandi al link e quindi si accede facilmente io siamo in chiusura voglio fare un appello a titolo anche personale cioè mi rivolgo agli ascoltatori di Radio Amore a coloro che sanno che io sono una persona credibile nel senso che non vendo né le patate né le cipolle ma quando sto qui e diciamo promuovo qualche cosa è perché lo sento in prima persona allora partecipate a questa come dire questa anticipazione di questo lavoro seguite i consigli che vi sono stati dati quindi mi raccomando prenotate il libro e il cd non escludete l'uno o l'altro io credo che è anche una questione di soddisfazione i due fratelli sono due ma sono ognuno diciamo vale per sé diciamo che nel libro è una tua semplice collaboratrice quando si parla di musica tu sei un grande maestro però consigli è consiglia bene ragazzi io vi invito a salutare grazie saluto tutti gli ascoltatori di questa radio anch'io mi associo e saluto Antonio e tutta la sua famiglia grazie per averci invitato è stato un piacere sempre avervi qui qui siete di casa vi aspetto per quando materialmente abbiamo a disposizione così facciamo anche ascoltare leggiamo qualche passaggio del libro e facciamo ascoltare tutti i pezzi sarà bellissimo grazie di essere stati qui grazie a consiglia e a peppe ricciardi alla prossima ciao a tutti ciao ciao Grazie a tutti.